Questo fa scappare un uomo a gambe elevate. Se tu quando incontri un uomo inizi a raccontargli tutte le tue magagne, tutti i tuoi problemi, che hai perso il lavoro e non sai come tirare avanti perché tuo marito non ti passa gli alimenti, che tuo figlio si droga, che hai questo problema, hai quell'altro problema, i tuoi genitori sono anziani e non sai come guardarli, e qua e là e tutte queste cose, queste magagne diciamo, allora è evidente che se tu inizi a raccontargli tutte queste problematiche, tutti questi casini nella tua vita, un uomo scappa a gambe elevate, ma chi la vuole una piena di problemi? Cioè già uno dice magari c'ho delle mie cose da risolvermi, da affrontare, che me ne faccio di una piena di problemi? Niente, saranno soltanto rogni e quindi se non vuoi apparire come una donna rognosa, una donna che porta rogna, perlomeno prima acquisisci potenziale, non raccontare nulla, ascolta, non parlare, metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari, ciao a tutti.